Qual è l'insensibilità congenita al dolore? Lo scopo del dolore è di proteggerci dal farci del male. Quando una persona mette la mano su una stufa calda, di solito la sua prima risposta è quella di tirare via quella mano. Le persone con insensibilità congenita al dolore non sentono dolore. Ciò significa che una persona con il disturbo non può rimuovere la mano da una stufa calda perché non sente il dolore della sua mano che brucia. Questo può portare a gravi problemi. Anche se è assolutamente spiacevole, il dolore è destinato a insegnarci a stare lontano da oggetti o situazioni pericolose. Il dolore può anche essere un indicatore di un problema più grande nei nostri corpi, come il cancro o un osso rotto. Una persona con insensibilità congenita al dolore non ha mai provato dolore e non lo farà mai. Può passare attraverso tutta la sua vita facendo del male a se stesso e forse non lo saprà mai nemmeno. Il trattamento medico per le persone con insensibilità congenita al dolore può essere difficile quante volte i medici fanno diagnosi parzialmente in base alla posizione e alla gravità del dolore. L'insensibilità congenita al dolore è una malattia che colpisce la parte del corpo che controlla la ricezione del dolore. I nervi che percepiscono il dolore non possono tradurre quell'informazione nel cervello, e quindi la persona non sente nemmeno il minimo fastidio. Questa condizione è congenita, il che significa che è presente alla nascita. Quindi, un bambino con insensibilità congenita al dolore può essere gravemente ferito, ma sembrerà un bambino felice. Un bambino con questo condizione è in pericolo estremo. Se mordichiamo la lingua, per esempio, smettiamo di morderlo perché fa male. Un bambino con insensibilità congenita al dolore non si fermerà perché non sa che si sta facendo del male. Un bambino simile può giocare con la stufa, tirare i capelli, fulminarsi o giocare troppo bruscamente e farsi del male perché non ci sono stimoli negativi che gli dicano di fermarsi. Questo può portare a gravi problemi e lesioni devastanti. Un'altra forma di insensibilità congenita al dolore è chiamata insensibilità congenita al dolore con anidrosi. È caratterizzato dal fatto che una persona non è in grado di provare dolore o temperature estreme e di non essere in grado di sudare. Una persona simile potrebbe non sapere che è troppo caldo o troppo freddo. Inoltre, senza essere in grado di sudare, una persona non può regolare correttamente la temperatura corporea. Nessun sudore significa che il corpo non è in grado di raffreddarsi adeguatamente e la persona potrebbe surrescaldarsi. Sebbene l'insensibilità congenita al dolore sia rara, è seria. Di solito, le persone con il disturbo non vivono oltre 25 anni. Senza la capacità di provare dolore, le persone possono rompere le loro ossa, bruciarsi o contrarre malattie gravi senza mai sapere che qualcosa non va nel loro corpo. Pertanto, possono sviluppare gravi infezioni o malattie che potrebbero essere evitate se prima avessero chiesto aiuto medico.